Quanto sono importanti i veicoli commerciali per la tua azienda? L'ISPLAN lo sa bene e ti propone le migliori soluzioni di mobilità per centrare gli obiettivi del tuo business. Un team di consulenti dedicati al tuo servizio in ogni momento. Dalla scelta dei mezzi più adatti, al controllo costante dei costi di gestione. Vogliamo garantirti la massima efficienza e soluzioni di guida intelligente per i tuoi conducenti insieme a un monitoraggio costante dei tuoi veicoli. Configuriamo insieme a te gli allestimenti e le soluzioni di telematica ideali per il tuo lavoro attraverso i migliori allestitori presenti su tutto il territorio nazionale a condizioni esclusive stipulate con le principali case costruttrici. Inoltre il nostro Driver Service ti introduce a una linea dedicata e ti garantisce un immediato supporto in tutte le fasi di assistenza. Dalla priorità della prenotazione intervento presso il nostro network selezionato a processi autorizzativi preferenziali per un rapido ritorno su strada. Con le nostre soluzioni di telematica potrai monitorare la tua flotta controllare percorrenze e consumi con report dinamici garantire la sicurezza dei tuoi conducenti e dei tuoi mezzi grazie alla rilevazione in tempo reale di incidente e furto che attiva una chiamata di emergenza alla nostra centrale operativa. Affidaci i tuoi veicoli commerciali perché il nostro obiettivo è il tuo business. Grazie a tutti!